Questa sera alle 20.45 la serenità nasa di scena alla scala del calcio. I campani sfideranno il Milan a San Siro per il Monday Night della 26esima giornata. Formazione quasi fatta per Paolo Sosa, che sembra orientato a schierare in attacco di A e Candreva a supporto dell'ex Pianto che Castanos è pronto a subentrare. A centrocampo il trio composto dalla Sanna, Coulibaly e Cernigoi, con maggiore che potrebbe essere la novità dell'ultimo minuto al posto di uno dei tre. Sulle corsie esterne, occupate, non sembrano esserci dubbi con Sambia e Mazzocchi che partiranno titolari. Il terzo etto di difesa, invece, con fazio ancora out e non convocato, sarà composta a Guionbert, Daniulic e Pirola. A difesa della porta il messicano Cioa, nonostante il completo recupero di Sepe. In casa Milan, invece, sarà probabile un ampio turnover. Pioli dovrà fare a meno di Messias, frenato da un problema muscolare alla coscia. Il tecnico sulle fasce dovrebbe affidarsi a Salemakers e Ternandez. A centrocampo Benasser e Tonali. Difesa a tre con Calu, Lutia e Tomorico, Magnan fra i pali. Ballottaggio di Hatz e De Ketlar per agire alle spalle della coppia composta da Leao e uno fra Origi e Giroud. In transalpino è uscito malconcio dallo scorso match di Champions League e potrebbe partire dalla panchina.